Il consorzio Formacop della Regione Marche ha aperto le iscrizioni al corso di qualifica professionale per diventare operatore socio-sanitario, più comunemente conosciuto come OSS. Un percorso formativo destinato a 30 allievi, uomini e donne, occupati e disoccupati, che consente di essere competente sia nel settore sociale che in quello sanitario. Il corso inizierà a dicembre 2022 ed composto da 1.010 ore, di cui 550 dedicate a lezioni teoriche e pratiche in presenza, 450 di tirocinio e 10 di esami. La didattica avrà luogo a Pesaro con sede ancora da definire per circa 4 ore giornaliere e serali, mentre lo stagio sarà effettuato presso a strutture socio-sanitarie con la supervisione di un tutor. La frequentazione del corso è obbligatoria e non saranno ammessi all'esame finale coloro che abbiano superato il tetto massimo di assenze del 10% delle ore totali. Per potersi iscrivere è richiesto il compimento del diciassettesimo anno di età alla data di iscrizione, quindi entro il 25 novembre 2022, ed essere in possesso del diploma di scuola dell'obbligo o assolvimento dell'obbligo scolastico. Le domande di iscrizione sono disponibili presso la sede di Cometa a Pesaro in Via degli Abeti 120 o sul sito www.formacopmarche.org. La selezione per la missione al corso, nel caso in cui ci fossero più di 30 domande, consisterà in un test scritto psicoattitudinale e di cultura generale a risposta multipla e chi lo supererà accederà ad un colloquio orale. La quota di partecipazione all'intervento formativo sarà di 2.300 euro a persona.